Cristiano Malgioglio Malinconico Cristiano Malgioglio Malinconico, il pianto al grande fratello Vip GF Vip, Cristiano Malgioglio in crisi. Sicuramente questa non è certo stata una settimana semplice per Cristiano Malgioglio. Difatti, dal momento in cui Carmen Di Pietro è stata eliminata è andato in una profonda crisi. Finita qua? Nemmeno per idea perché subito dopo la puntata del grande fratello Vip di lunedì scorso ha avuto anche un duro confronto con gli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani. Il motivo? Andando nel particolare, il noto cantautore è stato attaccato dagli altri concorrenti perché avrebbe messo il dito nella piaga con una battuta poco apprezzata durante il duro confronto tra Giulia Dell'Ellis e Alfonso Signorini. A quel punto l'uomo si è difeso immediatamente, respidendo al mittente qualsiasi critica. Tuttavia non è sembrato granché convincente. Motivo per cui ha iniziato a lamentarsi, arrivando anche a dichiarare l'intenzione di voler abbandonare il reality show condotto da Ilari Blasi. Comunque sia in questa circostanza la produzione è riuscita a fargli cambiare idea. In ogni modo l'uomo ha passato giorni di alti e bassi in questa settimana. E il pianto di poco fa appare testimoniare questo malessere di fondo. Il pianto. Su social hanno ipotizzato che possa essere semplicemente malinconico. Cristiano Malgioglio al grande fratello VIP triste e malinconico. Cristiano Malgioglio, inutile negarlo, non è certo passato inosservato in questo primo mese passato nella casa del GF VIP. E dopo i primi 20 giorni vissuti in totale allegria e spensieratezza, ha passato quest'ultima settimana un po' giù di morale. Ma i problemi non sono finiti qua per l'autore perché in queste ultime ore è finito nell'occhio del ciclone in quanto molti inquilini hanno iniziato a lamentarsi dei privilegi che gli autori avrebbero accettato di concedergli. Difatti, molti si sono lamentati che all'uomo sia stato permesso di andare a dormire in completa solitudine nella parte povera della casa più spiata dagli italiani denominata Tristopoli. Ma anche diversi fan del reality show si sono lamentati sui social ultimamente perché Cristiano Malgioglio andrebbe a dormire troppo presto, estragnandosi dalle dinamiche del gruppo. E chissà che non rischi di entrare in nominati a lunedì prossimo per questi motivi. Ci potrebbe essere questo reale pericolo per il famoso autore di Mina? Insomma, a circa un mese dall'inizio del grande fratello vi pare non esserci un solo concorrente a non aver fatto molto discutere. Chi potrebbe vincere questa seconda edizione del reality? Ciao!